musica musica che eccoci ben solo hai riparato a mio posto? sicuro? ah 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 quanto ti devo? eh beh che c'è un problema? c'è un mondo qui per pulitezza l'amico non pagano mica allora senti ti vuoi raggiungere il suo amico? vabbè e dove è il suo amico qui? non ce n'è mica l'amico non ti vuoi mai lavorare di regalo no? dai oh lord non 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 ma cosa fai? io voglio mica d'un celibattario che sa picciga ah non posso più trovare i miei maritati non 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 ma non non è il è Non, ma stai sempre, tu per la vita, tu non appena qui, ma io sia la famiglia sconda perché io non mi dormo, non? Oh, no, no, no. Di be'erra qui, tu le sempre a finito questo che è cominciato. Tita! Allora, tu es toujours un pyjama? Vientenno il è 10 ore, tu lo sai? Papa... Qu'est-ce qu'il y a ancora? Il me sento vieux. C'est la meilleure celle-là, tiens. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire. Je te dis que ça va pas et que j'ai le moral dans les chaussettes parce que je me vois vieillir de jour en jour. Et toi tu prends ça à la légère, c'est bien, merci. Enfin chérie, regarde les choses en face, on peut pas dire que tu es vieilli, Tora. Ah bon? Ah ben non. Tu te lèves à pas d'heure, tu fiches rien à la maison. Tu fais la tronche toute la journée, tu te regardes toujours dans les miroirs. En fait, il y a un ado, quoi. Ah, merci! Maintenant tu vas aller t'habiller, sinon tu es privé de décès. Oui, oui. Bon, bon. Eh, eh madame la meressa. Eh, c'est sûr. Eh non, je ne pense que j'ai pas d'heure, il va plus en plus. Non? Non, je ne pense pas qu'à l'eau, il va plus en plus. Eh, non, c'est sûr qu'à l'eau, il va moins en plus. Eh, il va plus en plus. Allora? Allora è andata ad incontro, aveva piaccia furibonda e a me resta pensare che l'isola e di là c'è Castellaccio. Ah, sei più forte! Un tiro di colombi! Femmo ragazzi, c'è Castellaccio che paga! Ebbene? Chi c'è? Non c'è. Fammi vedere! Non c'è, non c'è nessuno e non c'è nessuno. Ah, beh... Oh, 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 oh! Erize Ramina, non c'è nessuno. E come? Quando la dè a tu, si te dè a tu, si te dè a tu, e profite, andate, e gode te dia 8... Ah, è vera, pof, a che rivulete... Pudimo va choc e no ulimo, mondo è nostro! È vera, ti vuole profite a fondo! È vera! Ma dopo una piccola siesta! Sì, vai! E io venisco a una partita di Candy Crush! Ah, va! Chi sono tutte queste bere? La giubiliate dell'orto di Uigino. E li avete domandato? Perché è mio! Cosa, l'orto? No, Ubero! E Uigino? Uigino anche lui è mio! Ah, no, ma... volevo dire cosa ha detto Uigino! Ha detto che lei la uso io! Ubero? No, l'orto! Ma Ubero? Ubero non ha detto nulla, cosa ha detto Ubero? Ho lasciato, è troppo complicato, eh! Beco che tu non hai capito nulla, ne? Perché? Perché Ubero è la mia! Buongiorno è la...! Eccolo qua... Causse tuto il tuo Trude qui ti amo Cosa puoi non si tu facciamo un poiro dal E fra lì REALMET나 seTalOC Non c'è il tuo lavoro Ca lui da Banerina Par 3 Inoltre, tu le as fatto le course, come ti l'ai promisato hier, non, parce que, Claude, Claude, tu as fatto le course. Oui, Thomas, non, je pense que ça va être compromis pour cet après-midi, il faudra reporter à demain. Alors, ce que je vais faire, je vais planifier toutes les réunions de la semaine, et dans la foulée, je vous tiens au courant. Oui, un instant, Thomas, s'il vous plaît, oui. Oui, Thomas, bien sûr, Thomas. D'accord, Thomas. Avec grand plaisir, je vous rassure, Thomas, c'était formidable, Thomas. Mais que tiens-tu, Thomas ? Des courses. «Sous-titrage »